Premesso che nel mondo della politica tra alcuni manicolti ci sono anche tante, ma davvero tante persone per bene e ben preparate, non capisco affatto sino in fondo l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, sì d'accordo, critichiamo tutto, c'è molto da cambiare, c'è molto da rivoluzionare, però di fronte anche ad una squadra di eletti del Movimento 5 Stelle che diciamoci la verità è un po' raccogliticia, approssimativa, dilettantesca, non capisco l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle che è quello di una chiusura totale al rapporto con tutto e con tutti, mentre dovrebbero anziché fare di tutta un'erba un fascio, saper distinguere quelle che sono le persone per bene dal gruppuscolo dei manicolti che possono trovarsi nella politica. No, così Movimento 5 Stelle decisamente non va e credo che dopo l'ubriacatura delle proteste siete destinati ad un mesto e lento declino.